Siamo arrivati al punto più a nord del nostro viaggio in Alaska e se l'avessi fatto in elettrico sarebbe stata la stessa cosa? Sarebbe stato possibile? Scopriamolo dopo la sigla. Cari amici teslari, buonasera. Siamo arrivati a Fairbanks che è a circa 600 chilometri a nord di Anchorage e non lontano dal circolo polare artico, qui in Alaska, ma già qui il sole praticamente non tramonta. Ho pensato, come ogni volta che faccio un viaggio, che vado in giro, faccio sempre le mie considerazioni elettriche, avrei potuto farlo con un'auto elettrica? La risposta è sì, ma intanto ci tengo a precisare il perché non ho noleggiato un'auto elettrica. Intanto sono fortunato di aver trovato un'auto a noleggio perché noi abbiamo prodotto questo viaggio mesi fa e già mesi fa era praticamente impossibile trovare una macchina. Andando nelle catene quelle normali, in aeroporto ad Anchorage, si aggiravano su circa 300-400 dollari al giorno. Per fortuna qui negli Stati Uniti c'è un'app che si chiama Turo, che è una sorta di Airbnb delle auto, quindi sono persone che mettono a disposizione la propria auto pagando. Ho trovato questa magnifica Kia, di cui non mi ricordo il modello, non c'è da noi, è un piccolo SUV però a un prezzo abbordabile, diciamo decente e quindi abbiamo fatto questo viaggio con questa macchina. L'avessi fatto con un'auto elettrica cosa sarebbe cambiato? Intanto non è una distanza lunghissima perché sono circa 600 chilometri e che ovviamente abbiamo fatto in due giorni, ci siamo fermati al Denali, National Park, fondamentalmente non c'è niente su questa strada. È una strada che collega Anchorage, che è la città più popolata dell'Alaska, anche se non è la capitale. Tra l'altro la capitale è Junot e non è raggiungibile in auto, è raggiungibile solo via nave, infatti noi ci siamo stati con la crociera, oppure via aerea. È una cosa stranissima. E Fairbanks, dove mi trovo ora, che è la seconda città più popolata dell'Alaska, che ha però solo 30.000 persone, fondamentalmente, e Anchorage invece ha mezzo milione di persone. Su questa strada non c'è niente, se non a metà il Denali National Park. Il Denali è il monte più alto degli Stati Uniti, che è di circa 6.200 metri. In elettrico, intanto non è tanta strada, ma bisogna considerare che non è autostrada. È una strada che noi definiremmo statale, con un limite che oscilla tra le 55 e le 65 miglia orarie. Quindi diciamo intorno ai 100 km orari. Questa è la prima valutazione perché l'autonomia di un'auto elettrica, in particolare di una Tesla, a queste velocità aumenta notevolmente. Secondo me supera anche il valore VLTP. Sicuramente supera l'IPA. Quindi già magari con una Model 3 Long Range o una Model S Long Range potremmo coprire tutta la tratta senza ricarica. Ma non è questo il punto. Il punto è come mi sarei trovato con una Tesla. La prima cosa a dire è che paradossalmente sarebbe stato più difficile, tra virgolette, con una Tesla rispetto a una qualsiasi altra auto elettrica. Perché non ci sono supercharger. Qui in Alaska attualmente ce n'è solo uno che è a sud-ovest di Anchorage, quindi non su questa tratta. Ce n'è uno previsto ma poco a nord di Anchorage. Non ne ho visti previsti altri per ora. Anche perché alla diffusione ne ho viste veramente pochissime di Tesla proprio ad Anchorage, ma poca poca roba. Quindi non ce n'è. E vi ricordo che negli Stati Uniti la presa proprio dello spinotto delle Tesla è diversa dal CCS e non esiste un adattatore. Quindi le Tesla non possono tecnicamente caricare alle fast di terze parti. Possono caricare alle Chademo con un adattatore che però arriva a 45 kilowatt, non va oltre, che è sempre meglio di niente. Oppure esiste l'adattatore per le fast nel mercato coreano, però negli Stati Uniti non esiste ancora, non è commercializzato. Ci sono negli Stati Uniti persone che lo hanno acquistato dal mercato coreano se lo sono fatte inviare. Però tecnicamente non sarebbe possibile. Che poi ho visto delle foto alle fast che sono presenti su questa tratta di Tesla che caricano sia in Chademo che con questo fantomatico adattatore CCS1 alla presa Tesla. E tra l'altro in una colonnina dove mi sono fermato, poco fuori dal parco, dal Denali National Park, in mezzo veramente al nulla, c'è scritto nelle recensioni che ti forniscono l'adattatore se necessario. Quindi secondo me è un servizio assolutamente ottimo per chi guida elettrico o una Tesla in particolare. E quindi ho trovato appunto queste colonnine fast che ci sono effettivamente, anche qui a Fairbanks ce n'è una. Quindi il viaggio sarebbe stato tranquillamente possibile. Con una Tesla senza avere adattatori strani, ovviamente io l'ho spezzato in due come vi ho detto perché sono in vacanza e quindi non avevo intenzione di fare 600 chilometri in una tirata anche con una macchina termica, non era mio interesse. E quindi avrei potuto tranquillamente fermarmi e sfruttare la notte per ricaricare l'auto anche con una qualsiasi presa da qualsiasi parte. E qui viene un punto secondo me interessante, cioè quando mi trovo in delle aree poco coperte, e qui secondo me il punto interessante del video, mi trovo in aree magari più rurali, poco coperte da infrastrutture di ricarica, infrastrutture vere e proprie, quindi colonnine magari in corrente alternata, quindi non fast però a 11 kilowatt. Qui negli Stati Uniti arrivano di solito a 6-7 kilowatt, non vanno oltre. Ecco, come faccio? Allora, qui ho notato una cosa che avevo già notato in Norvegia. Molte auto hanno dalla parte anteriore una spina proprio che viene fuori e mi chiedevo, sarà come in Norvegia che hanno un riscaldatore per la coppa dell'olio? Quindi ho chiesto ed effettivamente è proprio così. Molte auto di gente che abita qui, ovviamente qui parliamo di inverno, di temperature che rimangono comodamente sotto i 10 gradi, 20 gradi anche per giorni interi. E quindi le auto hanno bisogno di scaldare l'olio, l'olio motore, prima di accendersi. Altrimenti l'olio perde le sue capacità di viscosità, proprio le sue proprietà, e andando in circolo nel motore senza le proprietà corrette andrebbe a rovinare o addirittura a far grippare proprio il motore. E quindi hanno questa presa di corrente davanti, questa spina scusate, che va inserita di notte, di solito, in una presa che hanno fuori di casa. Io adesso sono in un bed and breakfast e proprio qui di fianco a me c'è il garage e fuori dal garage ci sono due prese. Ieri ho dormito in un albergo e nel parcheggio dell'albergo ci sono tutti dei pali esterni dove c'è il parcheggio e su ogni palo ci sono due prese di corrente, proprio per attaccare questi riscaldatori dell'olio motore. E da qui la mia considerazione. Sì, avrei potuto caricare una macchina elettrica, anche se lenta, è sempre una ricarica, notturna, 10 ore comunque qualcosa ti dà. Ma il punto è che andare a sviluppare una rete di ricarica per auto elettriche non è così difficile come si possa pensare. Perché ancorché la rete vada potenziata, non cambia, almeno in una fase iniziale, non cambia la propria architettura. Nel senso che la rete c'è già. Materialmente la corrente è in ogni casa, è dappertutto. E quindi se io posso attaccare una presa a sciuco, o qui in particolare la presa americana a 110 volt, mi basta andare ad ampliare leggermente la potenza disponibile che magari c'è già. E io riesco comodamente a supportare un'auto elettrica. E questo vale in aree rurali, come può essere qui dove mi trovo adesso o durante tutta questa strada, ma può valere in qualsiasi contesto. Perché se noi pensiamo ai parcheggi degli aeroporti, per esempio, ai parcheggi delle città, ai ristoranti, agli alberghi, a chi parcheggia sulla strada con i lampioni. Cioè l'elettricità c'è già. Il punto è che basta avere la volontà e gli investimenti per rendere questa elettricità disponibile agli utenti della strada. Questo è il punto. Non è difficile espandere la rete. Quindi questa è la mia valutazione elettrica di questo viaggio. Per concludere, quindi, per chi dice, ma se un giorno tutte le auto saranno elettriche, sì, probabilmente lo saranno tra x anni, ma questo è un video a parte, ma la rete non si cambia dall'oggi al domani, esattamente come dall'oggi al domani non diventano tutte elettriche le auto. E quindi il processo di transizione è diluito nel tempo, richiede tempo sia per la diffusione che per la rete. E quindi sì, quando tutte le auto saranno elettriche, sì, ci sarà elettricità per tutti e sì, ci sarà la possibilità di ricaricare per tutti. Queste sono le mie valutazioni. Grazie a tutti, vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!